Ragazzoli belli, benvenuti tutti quanti su questo nuovissimo video. Vi volevo ricordare ragazzi che se volete supportarmi nell'item shop di Fortnite potete farlo tranquillamente utilizzando il codice creatore CROATOMIST. Quindi basterà andare nell'item shop, cliccare su supporto in creatore e andare a digitare il mio nome, ovvero CROATOMIST. Accettare ragazzi e il gioco sarà fatto. Vi ricordo inoltre ragazzi che ogni qualvolta shoppiate qualsiasi skin su Fortnite, avete anche la possibilità di taggarmi su Instagram e io farò in modo appunto di condividere ogni singola vostra stories. Quindi ragazzi, grazie a tutti quelli che dicevano di supportarmi, ma adesso godetevi questo fantastico video. Fattoria, è la prima volta che scende in questo posto. Ma sì? Ma la prima l'abbiamo vinta? No, non so. No, no, siamo a zero win. Pamp, devo prendere il suo pump. Quello sopra? No, io ti prego. Morti due. Morti tre. È lo, è lovissimo questo. 7 HP. Uno di lato, l'altro no. Di qua? Mi chiede babbo. Eh, il pump li ho fatto 43, 56, a quell'altro 31. Ma che è? Sì, ho fatto 4 HS così, ma questi HS erano peggio di... Eh, meno male. No, ce l'ho il pump. Ah, ma non buttavo anche, non mi chiede. E niente, quante persone erano in questa casa? 6? A letto, tutte 6. Sì, io ho 4 kg. E io uno. Allora io non c'è, manca uno. Sono andati tutti per quel pump, tutti, tutti, proprio tutti. Sì, uno è sceso per la R. Eh, infatti io ho mazzato prima quello con la R e poi tutto il resto. Siamo di bot. Eh sì. Oh, mannaggia. Della hand? Ci sta hand? Eh sì. Salute hand. Sare anche caso che non fuciva, solo che muori sempre come una pecorella smarita. Eh, che vuoi da me, se tu ti fuggi e io no. Eh, ma aspettami. Dove stanno? Aspetta, non mi faccio uno scudone. Eh, giusto, eh. E non offre. Stanno usciando? A me no. Madonna, mi è entrato un niente. Allora, comunque, occhio dietro che ci sono gli sniper. Comunque ho preso... Light out? Sì. Mamma mia che bell'effetto fa quando... Mamma mia ragazzi, che timing! Che è giustamente... Ok. Oggi siete stracari che si, Jackie. Ma... Quando si fanno le... Scusa, un pochino dai, sputtetto. Quando si fanno... Quando c'è... Ehi, perché devi fare queste cose così violente. Oh! Un timing perfetto. Perché ti levo? Ho preso... Bresaula, grana, rucola... E poi... Basta. Eh, direi. Ah, sì. Sì, ok, è buona come era. Sì, Bresaula, rucola, armi e parmigiano a me piace. Non l'ho mai mangiata sulla... Cioè, non ho mai mangiato una pizza del genere. Però tipo, Bresaula, grana e... Cioè, Bresaula, rucola e grana, a parte, in un piatto quello sì, l'ho mangiato. Ma su una pizza mai. Però credo sia buono. I think, non lo so. No, non è questione che sono sordo, ragazzi. Hanno appena bussato, già mi... mi battito a me. Ok. Arrivo, sono bene. Farò a caso che non mi molesti mi follower. No, chi ti dice niente? Allora, ragazzi. Secondo voi, no? Mo... Io, che cosa dovrei fare? Cioè, guarda, abbandonati, ci ha abbandonati, mi ha lasciato alla dolce pesca. Qui, mi sta facendo pescare da solo. Cioè, guardate... Cioè, mi ha abbandonato, ma ha lasciato da solo il ris... Il pericolo... Mi hanno pusciato. Cioè, qua? Che cosa fa? Ah, eh, complimenti. Complimenti. Mi sento, è lordo di me. Cioè, mi hanno pusciato, l'ho pure killato e se mi... Eh, ah, è meno male. Finalmente hai fatto le due prime kill della season, porca... Sì, grazie, ve le stili, cioè. È giusto, eh. Dai, ti carri o io? No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Io butti medikit, eh? Io c'ho quattro pesci. Non posso lasciare pesci. Sarà anche il caso che si vince. Poi tu devi mangiare, eh? Beh, è arrivato tutto quanto, quindi dopo questo game diciamo che potrei fare il social eating. Va bene, vai, vai. Tu stai, eh? No, no, cioè... No, l'RPG giù, vaffan... Eh... Addio, sogni di gloria. Addio. Fu cazzo di gloria. Io ne vado a prendere sta cosa, non hai capito. Io sto fai da. Eh, ciao. Abbandonato! È giustamente! È giustamente, no? Allora, ricarichiamo un po' di robe. Ci penso che tranquillo. Faccio tutto io. Eh, uno era lo, eh. Ma che lo? Ma che stai dicendo? Uno era lo, l'ho accettato. No, 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 no. Testimone. Te lo giuro, allora sei curato. Sei curato? Eh, adesso come minimo si vince. Oh, forza. Eh, ah, uno di vita. Oh, sì, ti prego un pochino, prendilo, dai. Per favore. Ma io ti scongiurro, ti supplico. Sarà anche caso che andiamo a fagare a questi stupidi bot. Ma ecco gli dove sono. È giusta, man. L'hai visto dove sono? Ah, ah. L'ultimo di due team, quindi sono tutti là. Oh, por... Li vedi? Uh! Uh! No, vabbè, raga, clippatela subito! Subito! Ti prego, laser. Non hai visto che ho fatto, PogChamp! Sei da sola là, eh? Madonna, che cosa ho fatto, ragazzi? Mamma mia, clippatevela subito! Subito! E siamo contro uno. Io non ho rubato niente, ragazzi, ma che stai dicendo? Ma siete fuori di te! Infatti rubare è una... Vabbè, c'è l'ultimo, la faccia, l'ultimo. Rubare è la parola sbagliata. Eh, capito. Mamma mia, ragazzi. Non puoi capire. Ma è da te? Ah, ha fatto il giro largo. Vabbè, ma poverino, cioè... Guarda questo. Ma... Non è... Uh! Fato pure una scopera! Mamma mia, andiamo, cazzo! Senti come è euforica, carica! Ma perché tu non hai visto quello che hai fatto prima? No, non l'ho visto. Cioè, era il tizio che si è buttato dalla building e gli ho fatto a che si è in volo. È stata bella proprio la scena. Ragazzi, non emozionatevi troppo. Non è rubato, perché... Sì, dici. Ehi, gira. Questa era... Eh, sì, era tipo... Forse... Non lo so se... Adesso non si sanno più distinguere se sono veri o finti. Non si sa. Questo qui... Però io faccio intorno alla lobby. No, perché in teoria, quando l'ultimo che rimane è un bot, il bot è left e vinci il game. Ah, ok. Capito? Quindi... Quindi sì, non era un bot. Ci sta, ci sta. Ah, va bene, andrò... Io faccio social reading e poi, vabbè, più tardi vado per me. Ah, va bene, andrò... Grazie a tutti